city hall ed eccoci al mercatino al mercatino di natale eccoci al mercatino di natale ma da quanto sono belle queste lice prendi la prendi la macchina prendi la macchina prendi willy wonka eccomi sono willy wonka mostraci la tua fabbrica si si willy allora hai fatto il bravo ho fatto il bravo ma willy wonka non è babbo natale willy wonka la cioccolata la da tutti se pagano tu paghi per la cioccolata ma cosa devo fare per vincere un viaggio nella tua fabbrica devi fare il bravo e mi devi offrire una birra ok ho fatto il bravo birra in cambio di cioccolata possiamo ovviare al secondo problema qual è quello della birra senti willy no tu come sei willy è la fabbrica di birra io sono come babbo natale conosco tutti i nomi tu sei cazzino esatto c'è una domanda che ti devo fare prima di aprirti il mio magico mondo il magico mondo della mia cioccolata sei contento di questo cioccolata e abbiamo anche un'umpa umpa questa l'umpa l'umpa che cazzo cacchino tashkaman ah questo quest'uomo riesce ad avere un cappello più ridicolo del nostro non si sa come si fa come l'umpa l'umpa come si fa a diventare umpa l'umpa c'è un corso c'è un corso c'è un'università dopo scienza della comunicazione e quale lingua bisogna imparare l'umpa 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 ovviamente come si parla parlaci un po' in un pa un pa mai visto come un film come una figura in merda si e chiudiamo su questa ci sta un corso che ti insegna solamente a fare così vedi ma gli un pa l'umpa ballano e ballano mentre mescolano la cioccolata non hai mai visto film ma sei un po' come una chiara vai a casa a vederti il film willy no aspetta willy allora facciamoci un giretto nel mercatino mi hanno detto che mi devi offrire una birra se ti dice male ti dice male siamo in un paio di corna vediamo se riusciamo a registrare due b staghi vaffè non ti permette ma non va ok compriamo l'arena la tua amica compriamo l'arena la tua amica ho capito compriamo l'arena la mia amica io faccio un giro qui e sei contento di questo sciopero lo faccelo cazzo senti sta per finire il dove siamo non lo so nel mercatino che odore nel video questo non può prendere innanzitutto in modo che a metterci vicino al fuoco andiamo a metterci vicino al fuoco andiamo a metterci vicino al fuoco no no vai a metterci vicino al fuoco wow ecco francamente ah 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 ma andi ma mi dai la mia la mia cake per favore ora te la voglio mangiare proprio qua davanti vai a comprare un po' di vin brillé la cattano un po' di pane cotta Loslo cotta e mancata ahahah Ma qua dentro? Quella tua pallina Sì, ma tu te la mangi con me Mangiamocela qua, dai Fammi vedere la pallina Sembriamo quello che siamo, ossia una grande coppia che Ma siamo due signori, dammi la pallina Ma ora la tieni tu e mi regalare No, no, niente Ma io nel video Ciao Ciao